Stiamo partendo. 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 Buongiorno. Stiamo partendo. 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 Allora. sono partendo. Stiamo partendo. 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 Ricordiamo che una marcia non è una gara. Grazie a tutti. 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 Pasquale, riusciremo anche a farlo per loro il reddito di cittadinanza. Abbiamo Massimo Baroni qua a due passi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Deve essere un certo numero, deve essere un certo numero, cioè devi avere una certa superficie per dare 22 kW di carica. Vedete che c'è un certo numero, vedete che c'è anche Ignazio Corrao, in borghese, non ha la maglietta. c'è un certo numero di c'èuta di Cispa parli a Beatrice a parte con gli d'articotaこんにちは. Di c'è euro, da cui c'è un altro tema di mila, l'altro c'è un certo numero di carica. C'è Quentinaro che ci sta dicendo che ogni tanto farà qualche diretta sulla pagina di Milano del Movimento 5 Stelle. tenetela d'occhio perché noi non possiamo essere ovunque Grazie a tutti 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 Saluto a tutti Ciao Movi Radio Vabbè dai adesso faccio la contro diretta La contro diretta Allora purtroppo è iniziato a piovere ma io mi bagnerò a morte piuttosto che interrompere la diretta Allora purtroppo è iniziato a piovere ma io mi bagnerò a morte piuttosto che interrompere la diretta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao da Milano Sta iniziato a piovere sta iniziato a piovere sta iniziando a piovere come vedete l'apertura degli ombrelli Spesso ci fermiamo Abbiamo appena incrociato Ornella Bertorotta Aspetta con la sigaretta non imitatela bambini Buon appetito a piovere sta iniziato a piovere come vedete l'apertura degli ombrelli Abbiamo appena incrociato a piovere Grazie a tutti 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 Grazie. 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 Un po' d'acqua c'era pulito. S5, grazie a Dio, è waterproof. Certo, S5 è waterproof. Dovrebbe durare almeno un paio d'ore con la batteria standard. Poi gli attacco la batteria. Quanta acqua che stiamo prendendo, speriamo finisca presto. Poi lo prenderemo e poi lo prendiamo le banche davanti. Dove le banche in un'altra, dobbiamo arrestarle due. Adesso lo vogliamo andare... Dai, se ci può cambiare. Robiamo a dire a quelli che gestiscono il meteo che i grillini non si sciolgono con l'acqua. che vi bagno per me che qua con l'acqua si rischia di prendere una con l'acqua si rischia di prendere una copia voi avete dormito bene, io ho dovuto lottare con i vicini fino alle due di notte è chiamato la ricerca perché questi qua stanno facendo un accolto per il su di lavoro all'1.45 era come se mi parlassero da noi sono più che ridevano per il potere l'ingresso ho visto un pezzo di Lanterna Verde che abbiamo fatto al cinema Lanterna Verde è un eroe della DC Comics che veramente nel film è spazzolissimo lui deve attivare questo potere e deve pronunciare un giuramento ma non ha la mia minima idea di come si faccia e quindi le prova tutte le formule e alla fine dice per il potere di Grace come dicevo le scivolate non riusciva a latinare mi è venuto in mente per il potere di Grace per il potere di Grace è da tanto che te la volevo rendere e quindi ci vediamo un po' di me che sono aggiungendo non sono pure Patrizio mi sono andato a mettere la stascia non è una banana non è un sacchetto giallo sono in debito di una banana dove sei paolo non mi puoi scappare dove sei paolo non scappare ho una cosa per te scusate emergenza banana bella huayana attaccati a questa panetta te la mangi dopo ne ho 5 a 6 come le 5 a 6? io non esco mai senza la panetta scusate dovevo saldare un debito in banane vabbè roba la sappiamo noi comunque il potere di grescula ha funzionato è uscito il sole ho incrociato non è qualcuno tanto date un'occhiata al paesaggio qui che è meraviglioso credito, credito di cittadinanza credito Italia l'unica speranza credito, credito di cittadinanza credito Italia l'unica speranza credito, credito di cittadinanza credito Italia l'unica speranza credito, credito di cittadinanza il segno è gun fella hai partito in coda come l'altra volta sei partito in coda come l'altra volta per fare sia lo scuolo che i precipiti soprattutto per sono caricato come un muro purtroppo piano piano quindi io però appena posto mi fermo perché devo tutta la macchina un'unica qui alla fine questo lo montiamo alla fine tanto ok ciao 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 reddito reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza è uscito il sole finalmente la formula magica per il potere di Grayskull ha funzionato. Allora, rifiuti indifferenziati, bottiglie o cartone indifferenziati, organico non ce n'è. Speriamo di avervi fatto gradito servizio con questa diretta, cerchiamo di farla integralmente. Però ci saranno molto probabilmente delle zone d'ombra, pioggia permettendo. Abbiamo cantato vittoria troppo presto, ha ripreso a piove. Ma i carciofi non sono invernali? Eh, devo sapere che risate che ci stiamo facendo, altro che il reddito di scettariate. Non ce la faccio più! Non mi fate ridere che mi mancano le forze e non riesco a marciare. sentitore di carciofi! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ah! Si! Ha! 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 Ma la vergogna! Non vengono le per forelle di qui. Leviamo! Guarda! Guarda! Ha! 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 Per il ciclo carciofi anche in primavera. Due brioscine e due caffè, ah si è un'aceo credo, non la camicia. Non è così facile, se fosse stato così facile. Non è così facile, non è così facile. Non è così facile, se fosse stato così facile. Anche il pulsante? Il pulsante non l'altro, non la USB, il pulsante. Non è così facile, se fosse stato così facile. Non è così facile, se fosse stato così facile. Non è così facile, se fosse stato così facile. Non è così facile, se fosse stato così facile. C'è Angelo Tofalo che non ho mai avuto il piacere di ringraziare per il retweet che fa. ci salutano anche gli abitanti. Non è così facile, se fosse stato così facile, se fosse stato così facile. Ciao Raffaella. Grazie per i bravi. Siamo una squadra fortissimi. Robi, se vedi questa diretta, fatti vivo. Ciao Marinella. Ciao Arcangelo. Ciao Alessio. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo il controservizio alle telecamere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo per lasciare Perugia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Col sole caldo diventerà un po' affoso. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. un salitone. c'è un po' e... a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . più. . . a tutti. . . . a tutti. . 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 Contenti che avete visto Beppe? Adesso andiamo un po' avanti per riprenderlo un altro po'. Andiamo un attimo all'ombra e poi ci fermiamo ancora a riprendere un po' Beppe. Ciao Cri, com'è la diretta? Siamo in piazza Dona Nibale e Valigi a Ponte San Giovanni. Ok, siamo arrivati all'ombra. Adesso targettiamo Beppe. Nooo. Salutate che siete in diretta. Bene, salutiamo. Ciao, noi siamo arrivati da Milano con un'ora di ritardo. E ho messo a corto. Perché abbiamo avuto un po' di problemi però come vedete siamo riusciti a recuperare tutto il corteo. Vi vedo già arrossati. Perché quel pezzo che voi avete fatto in un'ora noi l'abbiamo fatto in un quarto d'ora. Complimenti. Però sappiate che si è fermato spesso il corteo. No, no, ma abbiamo visto perciò abbiamo detto che c'era una possibilità. Hai visto il testare Nico con la sedia rotola elettrica che era con noi in macchina e arrivati giù ci ha detto No, io devo raggiungere Beppe. Eh, Beppe dietro. Eh, lo so abbiamo visto. Ma Daniele, Carmine eccetera? Carmine no, non l'ho visto. Che scemo Carmine non è venuto. E' venuto Daniele, Filippo e Bruno. Sono più avanti ancora? Non lo so. Ah, non li hai mai... No, no. Per caso? Daniele l'ho lasciato dietro. Per ricaricare Life. Perché io ho il caricatore. Io ho il Samsung. Lo lasciate in macchina con le Brunale e le robe nuttive. No. No. Io ho fatto anche la canzoncina, non l'hai vista la diretta. No, no. Abbiamo... Appena abbiamo sentito il rapporto a San Giovanni. Ci mettiamo dietro questo. Se ci perdiamo ci vediamo dietro questo. C'è un piccolo problema che adesso col sole rischiamo il surriscaldamento. che è da scongiurare. Fuori la mafia dallo Stato! Oh, perché no? Oh, Anna! Anna! Allora, mettiamoci un attimo all'ombra che aspettiamo che devi riunirci con Beppe. Ci facciamo la bevuta. Ci vediamo per qua. Dov'è? Angelo! Dov'è? 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 No. Ho appena salutato Angelo Toffalo. Dov'è? 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 No, c'è un po', ma quando incominciano gli alberi c'è un occhio. Ah, ma allora è un percorso. Allora non mi viene adesso, poi ci do. Dopo ci do, dopo ci do l'incorso ci do. Ci scelta. No, è un altopiano fondamentalmente. Eh, allora li metto dopo, vai. Eccolo qua. Viste? Dov'è? Vil'è? space. Invente Grazie Lo so che ci vengono addosso Se rimaniamo intrappolati qua è la fine Se non ci intrappolano qua non ce l'abbiamo più altrimenti Grazie Salutate Maria Elena Abbiamo superato anche Maria Elena Che era la cosa più importante Al prossimo Italia 5 Stelle ha detto Beppe che annunceremo il candidato premier del Movimento 5 Stelle Allora se vedete che c'è poca gente Perché praticamente siamo alla testa del corteo fondamentalmente Il gruppo di testa direbbero i ciclisti Intanto riprendo Beppe Rifornimento al volo Siamo il movimento più bello del mondo E ci dispiace per gli altri Che sono piddini Che sono forzini Che sono leghini E non sapranno mai cos'è la democrazia Guarda se sta marciando con noi Ce l'ho sulle spalle Risto pesa un po' E ormai siamo allenati nel 2015 L'abbiamo fatta La faremo anche questa volta Purtroppo quando succede l'unica cosa E l'unica cosa è che ieri ho parlato Ieri ho parlato col coce Non ho capito se dobbiamo girare Eh Liliana come ti è piaciuta Mi è venuta l'improvvisazione Sarà il colpo di calore che ho appena preso Guardate quanto sono belli Altro che magliette gialle Ma quale vi siete persi Noi sappiamo esattamente dove stiamo andando Non vorrei che ci prendesse sotto anche il camper Avanziamo Avanziamo Grazie, non nominate le Betino di Rignano possibilmente. Che porta sfiga, già avete scritto una volta, è passata una nuvola passeggera, non vogliamo che resti permanente. Comunque non sottovalutiamo il colpo segreto del PD, il colpo di calore. Nel senso che se inizia a fare caldo andiamo giù come birilli. Rifiuto secco residuo. Allora stiamo uscendo da Ponte San Giovanni, adesso prendiamo l'autostrada. No, allora, grazie a Dio c'è un po' di nuvolo. Per quest'anno non cambiare, anche tu vieni a marciare. Perché? Perché i grillini sono più veloci delle macchine. Vai! Quanti chilometri mancano? Se non ricordo male Ponte San Giovanni ha otto chilometri, qui ne mancano dodici. Comunque quest'anno sono in forma. Chissà se durerà la batteria. Ed ecco voi, diretta di Muviradio contro diretta di Milano. Che facciamo? Eh, non lo so, io sto leggermente accaldato. Ho già fatto un rifornimento al volo. Io sto a una favola, ho già mangiato due mele, sono a posto. Credo di avere ancora due banane se ti interessa. C'è anche delle mandorle. Previsco le mele. E la patata, diciamo. Però è tardi, magari. Vabbè, Leonardo, buon lavoro. Ciao, Daniele. Ciao. Ed ecco qui la testa della Marta. Proprio di testa. C'è Alessandra, quindi è giù dietro. Lui? Vai, cammina. Te lo chiudo. È rotto proprio. Non si può chiudere. Ah, siamo a posto. Vabbè che ho preso uno di riciclo. Boh. Neanche gli F-16 riforniscono così. Abbiamo anche la scorta armata. Per esempio è tutta femminile. Non si può chiudere. Non si può chiudere. Non si può chiudere un po il buon lungo. Non si può non essere, non si può chiudere. Non si può chiudere. Staisi o Signore. Dovrebbero essere otto chilometri fino a Ponte San Giovanni. Io mi ricordo che l'anno scorso era otto. Allora, a quattro chilometri all'ora e non siamo andati a quattro chilometri all'ora perché ci siamo fermati. Questo è a quattro chilometri all'ora. Ne fai otto chilometri. Che ore sono? Non lo so. Siamo arrivati alle 12 e mezza e sono passati l'ora e qualche cosa. A volte siamo stati freddi. Quindi massimo abbiamo potuto fare otto, ma proprio massimo, non di più. Secondo me siamo otto. Guarda la cosa qui. Chi è scrive che siamo quattro gatti ha visto la diretta adesso. Siccome siamo all'avanguardia del corteo... Guarda quel cartello che dici a qui. Guarda i cartelli. Cora che siamo? Assisi. Assisi 20. Sì, ma noi tagliamo. In autostrada sono 20. Andrea, l'anno scorso erano otto chilometri. Me lo ricordo come se fosse ieri. Ma il resto c'è un motivo per cui si chiamano pidioti. Sì, grazie alla grazie. Non ci mancherebbe. Adesso arriviamo in testa al corteo e poi ci fermiamo un attimo magari a mangiare qualcosa. Adesso si vede che siamo dritti. Allora, questa è la testa di corteo. Teoricamente non potremmo superare le macchine della polizia. Allora, stiamo uscendo da Ponte San Giovanni. Luca, dovrebbero essere in totale 20 chilometri. Come quelli dell'anno scorso, scusate, del 2015. Siete ancora tantissimi in diretta, grazie. A quest'ora credo che dobbiate mangiare. Guardate un po' il panorama. Ecco, meglio così? O meglio così? Senti, questo è stalking. No, infatti, purtroppo anche con le riprese, se rimani fermo, ti intrappolano. Poi non riesci più a... Questo è il mio passo normale. Dopo quando fai un abuso, si migliorà, ti fai... Il segreto del mio successo. Che rimanga tra noi e queste 160 persone. 160? Prima erano 180. Adesso sono scesi un po'. Che fai, ti metti in scio? Ti metti in cuore. Le mie impressioni stavano andando più veloci del solito. Tra un po' arriviamo al salitone infernale. Un po' arriviamo al salitone infernale. Quello è tra me. Infatti, se passo quello, poi mi fermo un attimo e mangio qualcosa. E là è pesantina. Sì, quello è uno strappo in contatto. Cioè, la volta scorsa mi sono strappato un po' i muscoli. Ah, quello è uno salito che taglia un po'. Però ieri mi sono fatto 4 camminate per riscaldare. Ragazzi, non è che ci sono poche persone e che il grosso l'abbiamo lasciato alle spalle. Cioè, guardate qua. E' quello il corteo. Vediamo un po' se riesco a farvelo. Signora, mi punta l'obiettivo? Vediamo qua. oggi sono le 3.44 abbiamo 25 gradi una decina di chilometri a me no 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 è perché quella è la tangenziale tangenziale un'autostrada 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 un'autostrada